Tanti Baci è il nome scelto per l'edizione numero 67 del Festival Puccini di Torre del Lago in programma quest'estate dal 23 luglio al 22 agosto. L'edizione 2021 del Festival in onore del compositore Giacomo Puccini è stata presentata in regione toscana con il presidente Eugenio Giani e in collegamento Daniele Abbado, Marco Scola di Mambro e Stefania Sandrelli, registi delle tre opere puciniane in cartellone cioè Tosca, Turandò e La Bohème, un'iniziativa culturale che vuole anche essere un segnale di rinascita dalla pandemia da Covid-19. Crediamo tantissimo che questa sia una espressione culturale più autentica della Toscana, parliamo di una Toscana che con il Festival si sta proponendo nel modo con cui la conferenza stampa ben descriverà ma soprattutto pensiamo a una scadenza, a quella del 2024, il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, pensiamo quindi a questa terra toscana che attraverso la musica e l'attività di un'istituzione d'eccellenza come il Festival Pucciniano può dare il senso di una proiezione di rilancio e di speranza a livello mondiale proprio dopo la pandemia. L'amore è il filo conduttore dell'edizione 2021 curata da Giorgio Battistelli, l'obiettivo è anche quello di puntare sulle collaborazioni per creare un network tra le istituzioni musicali toscane, altri eventi vedranno protagonisti Tony Servillo, Stefano Massini, Giuseppe Montesano e Franco Marco Aldi. Sappiamo che all'orizzonte ci sono anche delle nubi ma con coraggio e responsabilità nei confronti del nostro pubblico, del territorio della Versilia intendiamo riprovarci anche per affiancare il turismo e la ripresa del territorio versilese e toscano.